Risalgono i casi di Covid in provincia di Arezzo. Se ieri erano 58, oggi ne contiamo 86. 30 sono nel capoluogo, gli altri in tutte le vallate. I numeri più significativi sono in Valdarno, 7 a Terra Nuova, 7 a Castelfranco. Si segnalano in Valdichiana 5 casi a Foiano e 7 a Cortona. In Casentino abbiamo 7 casi a Bibbiena, 5 casi a Sansepolcro. È sempre sotto affanno la situazione all'ospedale San Donato di Arezzo, che conta 106 malati in bolla Covid e 22 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano due morti. Si tratta di due donne di 69 e 82 anni. Sono 1.138 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le scuole e la situazione in provincia di Arezzo nell'ultima settimana, vede un incremento di 32 contagiati. Dall'inizio della pandemia ad oggi, infatti, sono 1.299 gli aretini che hanno contratto il virus. Il numero maggiore, 1.048, mercoledì scorso erano 1.018, sono studenti. Gli insegnanti sono 209, due in più, mentre 42 tra personale non docente. Ad oggi 1.237 sono guariti definitivamente dal virus. Quindi attualmente ci sono 511 ragazzi, 4 docenti e 21 operatori scolastici ancora contagiati in tutta la provincia, per un totale di 57. 5 retini poi sono in carico ad altre aziende sanitarie. Grazie. Grazie. Grazie.